Musica Amici appassionati di calcio ben ritrovati in questo nuovo video in attesa di sapere di vedere finalmente il trailer di presentazione di FIVA23 che uscirà nel corso di questa settimana, oggi EA ci ha mostrato per la prima volta la cover ufficiale del nuovo FIFA ma non sarà questa l'unica novità e l'unico elemento importante che vedremo all'interno di questo nuovo FIFA News Di ritorno quindi dalle vacanze parigine, sono pronto per commentare insieme a voi le ultime novità di questo FIFA News Con Parigi sì, protagonista perché abbiamo il Paris Saint Germain ma più nello specifico il vero protagonista, l'uomo cover, è lui E' Kylian Mbappé, l'attaccante francese di proprietà del Paris Saint Germain per il terzo anno consecutivo, uomo copertina del videogioco calcistico targato EA Ma sul profilo Twitter di FIFA Witcher vediamo anche quelle che sono le console che ospiteranno il prossimo FIFA Con un appunto da fare, anzi in realtà qui vediamo una parentesi molto interessante ma ne parleremo tra pochissimo Quindi confermiamo PlayStation 4, confermiamo Nintendo Switch, PlayStation 5 naturalmente Seguendo anche la controparte Microsoft con Xbox Series X e Series X, anche Xbox One, Google Stadia e poi PC e Mac tramite il portale di Origin Tra parentesi, FIFA Witcher dice preparate i vostri computer, per quale motivo? Nella passata stagione FIFA 22 non supportava le novità della nuova generazione di console Quindi tutta la nuova tecnologia, la hyper motion technology mostrata su FIFA 22, su PlayStation 5, Xbox Series S e Series X Non era purtroppo presente su PC E questo ha un po' agitato la community, visto che FIFA su PC è molto utilizzato, FIFA su PC è particolarmente moddato E questo è stato un peccato perché alla fine sì, ci siamo goduti comunque un buon gameplay Ci siamo goduti le varie mod di coloro che lavorano per rendere migliore questo videogioco Ma purtroppo la versione PC non ha portato con sé tutte quelle che erano le novità legate alla nuova generazione di console E aggiungo anche ragazzi che per coloro che ancora hanno una PlayStation 4 o un Xbox One Non aspettatevi grosse novità, semplicemente FIFA 23 sulle vostre console sarà un FIFA 22 con le rose aggiornate E con naturalmente poi tutti quelli che sono i diritti, quindi le licenze delle squadre e dei vari campionati Ma non aspettatevi grosse novità sia dal punto di vista grafico ma soprattutto anche legato al gameplay Questo ci tengo ancora una volta a precisare che riguarda coloro che giocano a FIFA, la PlayStation 4, Nintendo Switch e anche Xbox One La prima copertina riguarda l'edizione Ultimate con Mbappé e non solo Perché abbiamo anche l'attaccante del Chelsea femminile Sam Kerr che fa compagnia appunto all'attaccante francese Come sempre ci piace andare oltre la semplice copertina È una bella copertina perché ci mostra uno stile decisamente particolare Come se stessimo parlando di una scultura anche guardando appunto il fonte della scritta Kerr Mbappé Ricorda molto no? Quello stile che si può vedere in certe sculture, certi edifici storici del passato Abbiamo però inoltre delle conferme che riguardano soprattutto i diritti di campionati e di competizioni E naturalmente anche delle squadre Sappiamo che la Premier League e la Ligue 1 sono due campionati licenziati da EA Nella manica destra di Kerr abbiamo il logo del campionato femminile inglese E il piede sinistro di Kylian Mbappé è appoggiato sul pallone della Champions League Di conseguenza tutte quelle che sono le competizioni UEFA, quindi Champions League, Europa League e Conference League Torneremo a vederle, a giocarle all'interno del prossimo FIFA Stiamo parlando di un'edizione storica soprattutto legata alla presenza di Sam Kerr Prima donna, prima donna copertina all'interno di un videogioco calcistico Ma eccola qui, la cover ufficiale, la cover che sicuramente vedremo di più Perché non tutti vogliono magari comprare l'edizione Ultimate Si accontentano della base Beh, questa ragazzi è la cover ufficiale del prossimo FIFA con Mbappé protagonista E ragazzi mi raccomando mettete la sveglia Preparatevi perché domani sarà una giornata chiave Perché con molta probabilità avremo finalmente il trailer di presentazione del prossimo FIFA 23 Qui addirittura abbiamo l'orario che dovrebbe uscire intorno alle 5 del pomeriggio Abbiamo addirittura la presunta durata del trailer 2 minuti e 22 secondi Inoltre potrebbe partire anche il pre-order di FIFA e l'annuncio del cross platform Il cross plane abbiamo già parlato nel corso degli ultimi mesi Quindi domani mi raccomando una giornata molto importante E fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere una live durante quell'orario Quindi dalle 4 e mezza alle 5 circa Dove aspettiamo, attendiamo il trailer di presentazione del nuovo FIFA 23 Mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e vi piacciono i contenuti che porto Seguitemi come sempre nei miei vari social E noi forse forse mi sa che ci vediamo molto probabilmente Proprio domani con un nuovo video Con il commento del trailer di presentazione del nuovo FIFA 23 Ciao a tutti ragazzi